Finalmente la recessione nell'area euro sembra essere giunta al termine. Questo è il segnale che ci viene sia dagli indicatori di fiducia, sia i dati di economia reale riferiti al prodotto interno lordo del secondo trimestre. Questo è, se vogliamo, un po' la media del pollo, nel senso che per tutta l'area euro la recessione sembra essere finita, mentre per l'Italia la situazione è ancora di contrazione dell'attività economica. Tuttavia riteniamo che lo scenario benigno verso il quale dovrebbe muoversi l'area euro dovrebbe poi contagiare anche il nostro paese e quindi per il terzo e quarto trimestre dell'anno dovremmo assistere a un ritorno allo zero o allo zero virgola nei tassi di crescita della nostra economia. Non saranno numeri ecatanti, sia per quanto riguarda l'area euro che per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, perché all'appello mancano ancora importanti variabili che dovrebbero sostenere il ciclo economico, che si chiamano occupazione e derogazione del credito. Quindi nel nostro scenario vi sarà sì ripresa, però sarà moderata e solo con una certa lentezza anche le dinamiche occupazionali e anche quelle di erogazione del credito a sostegno dell'impresa avranno un movimento positivo verso l'alto, non nel breve termine ma dopo un certo numero di trimestri. In questo contesto la Banca Centrale Europea dovrà soprattutto difendersi da un rialzo dei tassi di mercato innescato da quanto sta avvenendo negli Stati Uniti per effetto contagio. Quindi molto probabilmente nel corso delle prossime audizioni il governatore Draghi dovrà ancora una volta dire che il ciclo della politica monetaria europea è diverso da quello americano e contrastare verbalmente o nei fatti, cioè con interventi o sul tasso di interesse o sulle quantità, una possibile rialzo dei tassi di interesse in Europa non giustificato dall'attuale ciclo economico del nostro continente.